Questa mattina grazie a WeNature il Parco Miralfiore si popola di bambini e bambine delle scuole elementari che vivranno una giornata di grande avventura. Noi abbiamo voluto aggiungere in questa terza edizione, anche in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, abbiamo voluto aggiungere un elemento in più che è quello delle scuole. Il payoff di Pesaro Capitale della Cultura era la natura della cultura, non poteva mancare la natura e noi come Swarovski Optic, che quando abbiamo promosso tre anni fa l'edizione di WeNature, abbiamo voluto quest'anno aggiungere una giornata dedicata ai bambini, i bambini con le classi, con le scuole di Pesaro. Ogni casa, in ogni casa nel passato c'era un binocolo e si tramandava quasi per tradizione, per generazioni. Ecco, c'è bisogno di questo ritorno, ma soprattutto c'è bisogno di questo ritorno per osservare quello che ci circonda e in questo caso la natura è piena di risorse e di scoperte. Questo parco Miralfeo è bellissimo, è grande, c'è un sacco di biodiversità sia in piante che in animale e oggi infatti con le classi andiamo a scoprire la biodiversità di questo bellissimo parco. In mezzo alla città è proprio un polmone, un polmone verde. Che cosa si può trovare all'interno di un parco che per la città noi siamo abituati quasi a considerare come così, come una piccola goccia nel tessuto cittadino e invece cosa si può trovare? Allora, io sono venuto qua oggi per la prima volta e posso dire che non è una piccola goccia, ma è in realtà ricco, ricco di biodiversità, perché a volte alcuni spazi possono sembrare degradati. Ecco, in realtà non è questo il modo con cui bisogna giudicare l'ambiente, non sempre l'estetica è il modo migliore. Ricordiamoci che per esempio gli uccelli sono dei grandi bioindicatori, cioè ci fanno capire la loro presenza, lo stato dell'ambiente in cui stiamo. Ecco, io ho sentito il canto di diverse specie di uccelli, anche poco comuni, nel senso che sono, però adesso stanno arrivando diverse specie di uccelli vicino anche ai centri urbani. E avere spazi del genere non è scontato, invece è una cosa molto importante. Per questo, ecco, posso dire, ecco, consigliarvi di stare qua, di stare all'aperto, di osservare le tante specie di uccelli che sono qui presenti. Ho saputo che ci sono delle nidificazioni di aerone cenerino, ecco, ci sono diversi adesso uccelli che in questa stagione riproduttiva stanno cantando e stanno venendo qua per nidificare, per fare il nido qua. Ecco, quindi non c'è modo migliore per capire che questo spazio, questo spazio verde è in realtà ricco di biodiversità e quindi è molto bene, molto giusto viverlo.